Babarogna l'ha battuta, la palla in mezzo, può allontanarla, Zanetti non riesce, poi la conclusione con il sinistro e c'è il gol della Lazio, il tocco di Belleri. Palla in mezzo, di Ducchiere, pareggio dell'Ascoli, autogolla da parte di Mauri. Mauri, grande giocata poi di Pandev, che va via in velocità, Pandev, a re di rigore, Pandev, in impallo, Pandev, il gol, scontinario! Pandev, Rocchi, al centro c'è Pandev, lo vede, Pandev, manca, il tocco decisivo, fischia Paparesta, va Baronio, Pagliuca smanaccia malamente, poi Mauri, all'occasione di battere Cribari, e Pagliuca ci mette un miracolo. L'accelerazione dell'Ascoli, Zanetti, va giù Zanetti, non c'è fallo, palla buona, attenzione a Guberti, andare con il sinistro a Peruzzi, ci mette una pezza, poi Guberti! Rocchi, che godagna questa grande parola, Pagliuca, il gol dell'Ascoli. Colizione regolare, Makingwa, prova lui la risposta.